Siamo disponibili a mettere la fiducia se ci sarà la necessità, non che ne abbiamo messe poche fino a questo momento, ma anche in questo io credo che è del tutto evidente che non ci si possa stupire se vengono fuori fenomeni di corruzione, perché diciamo sempre che abbiamo le statistiche sulla corruzione tra le più alte d'Europa, quindi quando vengono fuori elementi di corruzione io sono sinceramente dispiaciuto dal punto di vista umano, ma sono anche contento perché è evidente che se escono vicende di corruzione vuol dire che il contrasto sta funzionando, perché altrimenti abbiamo le statistiche che dicono siamo il paese più alto per corruzione e contemporaneamente non si becca mai nessuno.